Terra Amara, puntate turche, il capomastro una relazione extracognugale con Ser. Nelle future puntate di Terra Amara che andranno in onda su Canale 5, il pubblico vedrà Gaffur tradire la moglie Saniglie. Il capomastro cederà alle lusinghe di Ser e inizierà con lei una relazione extracognugale. Il suo segreto non rimarrà tale a lungo, visto che Saniglie lo scoprirà, scagliandosi non solo contro il marito, ma anche contro la rivale. Nelle future puntate di Terra Amara non mancheranno i colpi di scena, in particolare saranno Gaffur e Ser ad avere una tresca. Il capomastro inizierà una relazionale extracognugale con la domestica, tradendo così la moglie Saniglie. Quest'ultima non tarderà a scoprire il tradimento, accadrà nel momento in cui li ascolterà una conversazione tra i due amanti. Ovviamente, la cosa la indispettirà molto. La donna si sentirà umiliata e affronterà il marito, il quale negherà il tradimento. Nonostante questo, Saniglie non riuscirà a fidarsi e lo farà dormire sul divano. Gaffur continuerà a negare di aver avuto rapporti con Ser, ribadendo che tra loro ci sarebbe solo un'amicizia. Ovviamente Saniglie non crederà alla versione del marito. In Terra Amara, non passerà molto tempo prima che Gaffur cada di nuovo nello stesso errore. Visto che Saniglie continuerà a respingerlo, il capomastro andrà di nuovo a cercare Ser. Tra i due riesploderà la passione, tanto da decidere di appartarsi in una stalla per soddisfare il proprio desiderio. Andrà così in scena l'ennesimo tradimento di Gaffur, il quale però, se ne pentirà subito dopo. I sensi di colpa attanaglieranno l'uomo, visto che sarà consapevole che la moglie non si meriti un trattamento del genere. Resta da capire come gestirà questa situazione il capomastro. Tra le altre cose. Mentre tornerà a casa dopo una notte d'amore con Ser, Gaffur vedrà un caro e fecheli mentre si salutano affettuosamente. La cosa incuriosirà il capomastro, il quale comincerà a sospettare che tra i due ci possa essere del tenero. Scorrendo le anticipazioni di Terra Amara, ben presto Saniglie verrà a sapere che Gaffur continua a tradirla con Ser. Sara fa di caspifferare tutto, facendo andare su tutte le furie la donna. A questo punto, scoppierà una lite furiosa in cucina tra Saniglie e Ser, con la moglie di Gaffur che colpirà più volte la rivale.